Mi chiamo Beatrice Lotti e la serie TV che secondo me vale la pena di vedere è Twin Peaks di David Lynch che nonostante sia stata fatta negli anni 90 è molto gettonata e molto importante anche oggi. Per quegli anni questa serie è un nuovo modo di fare televisione per quanto riguarda la trama che può benissimo essere vista come banale e viene comunemente attribuita a una soppopera ma che presenta situazioni al limite del thriller e dell'horror che contribuiscono a dare allo spettatore un senso di estraneamento ma comunque di interesse e quindi ci sarà una continua ricerca di scoprire la verità e di scoprire come vanno davvero i fatti e di venire a conoscenza di quello che sarà l'assassino di Laura Palmer. Molto interessanti sono i personaggi perché ogni personaggio quando si viene a conoscenza di un nuovo personaggio si pensa sia fatto in un certo modo ma andando avanti con la storia ognuno di essi avrà qualcosa di particolare, qualcosa di inquietante e strano. Queste caratteristiche faranno sì che Twin Peaks verrà considerata una delle serie più influenti della storia anche perché l'importante non è appunto l'anno in cui è stata fatta, l'anno in cui verrà vista ma i contenuti e l'interesse che scarturisce verso lo spettatore.